Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più, quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda, domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno, ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli, grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. e questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che, grazie al proprio senso di comunità, è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui, e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli, grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. E questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando a prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che, grazie al proprio senso di comunità, è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli, grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli, grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che, grazie al proprio senso di comunità, è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui, e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli, grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che, grazie al proprio senso di comunità, è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui, e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli, grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando a prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli, grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di scelta. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che, grazie al proprio senso di comunità, è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui, e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli, grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui, e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che, grazie al proprio senso di comunità, è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli, grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che, grazie al proprio senso di comunità, è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui, e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli, grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questo è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. ci prenderanno come esempio positivo di un paese che, grazie al proprio senso di comunità, è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che, grazie al proprio senso di comunità, è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui, e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che, grazie al proprio senso di comunità, è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui, e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che, grazie al proprio senso di comunità, è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui, e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli, grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli, grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questo è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli, grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli, grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. di un paese. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore per correre più veloci domani. tutti insieme ce la faremo. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli, grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno, ci prenderanno come esempio positivo di un paese che, grazie al proprio senso di comunità, è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli, grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. ci prenderanno come esempio positivo di un paese che, grazie al proprio senso di comunità, è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova che sia una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che, grazie al proprio senso di comunità, è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che, grazie al proprio senso di comunità, è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui, e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che, grazie al proprio senso di comunità, è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui, e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli, grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. ci prenderanno come esempio positivo di un paese che, grazie al proprio senso di comunità, è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli, grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che, grazie al proprio senso di comunità, è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui, e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che, grazie al proprio senso di comunità, è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui, e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli, grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questo è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui, e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità, unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. Ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui e questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. di 60 milioni di italiani che quotidianamente comprono piccoli, grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questo è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. quello più importante. In questo momento tutto il mondo ci guarda. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno. ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. L'Italia, possiamo dirlo forte, con orgoglio, sta dando prova di essere una grande nazione, una grande comunità. Unita e responsabile. Una comunità di individui. E questo è molto importante. Siamo parte di una medesima comunità. Di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Questa è la forza del nostro paese. E voglio dirvi un'ultima cosa. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.